Sono Cinzia Laspisa, consulente immobiliare di Remax Platinum. Il mio 2023 è andato bene, allo stesso livello del 2021 e del 2022. Stranamente io sono sempre a pari come livello di fatturato, malgrado gli aumenti dei tassi, malgrado le crisi del momento, sono riuscita a mantenermi sempre bene o male allo stesso livello. Essere premiata per tre anni di seguito inevitabilmente ti dà una visibilità che ti porta ad avere successo. Quindi è una fatica che comunque ti viene ripagata. Come fare dei manifesti, come farsi pubblicità? Essere per tre anni di seguito sul podio inevitabilmente fa capire alle persone che qualcosina la sai fare. Io vado a braccio come gli attori del teatro contemporaneo, non ho un copione. Lavoro in maniera determinata, perché quando lavoro sono come i muli, però non ho dei veri e propri programmi. È anche vero che sono tre anni che sono sul podio. Sul podio è tra i primi tre, quindi è un bell'obiettivo raggiunto che comunque mi aiuta anche a lavorare, perché mi fa conoscere dalle persone che logicamente credono in me, con meno remore. Si fidano. Fiducia, empatia e tutto quello che c'è dietro è fondamentale, perché non stiamo parlando di vendere un paio di scarpe o di vendere un mobile, ma stiamo parlando di vendere una casa. Case che nove volte su dieci vengono dalla famiglia, vengono da sacrifici, vengono da mutui, quindi avere il cliente che non ti dà fiducia ci sta. Io, aiutata sicuramente dall'età, sicuramente dal mio modo di fare, io sono una che fa amicizia molto facilmente, dalla mia esperienza, che comunque c'è oggi, facilmente riesco ad acquisire questa fiducia. Mi danno le chiavi, mi danno l'incarico, fai tu. E questo già per me è un premio. Allora, quello che mi propongo per il 2024 è di acquistare questa fiducia, quindi di vedermi dare le chiavi, firmare l'incarico e sentirmi dire fai tu, mi fido di te, per tutto il 2024, il 2025, il 2026, il 2027. Più infinito.